E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. E' un onore per me presentare il maestro Peter Finger. Il maestro Peter Finger. Il maestro Peter Finger. Il maestro Peter Finger.